ciao luca e benvenuto nella mia cucina oggi per gli amici di tg event mi diverto a preparare un piatto che io chiamerei tutto calabrese perché c'è dentro sia il mare e si è prodotti della terra di calabria ora ti dico gli ingredienti che ci servono delle melanzane già fatti riposare con sale dei pomodori pesce spada del tirreno un po di vino bianco e rigorosamente calabrese olio d'oliva olive oligano prezzemolo e alio adesso vieni con me che ti faccio vedere come si prepara il piatto in un tegame mettiamo un po di olio d'oliva e ci buttiamo dentro le melanzane e li facciamo rosolare qualche minuto nel frattempo tagliamo i pomodorini diamo un'occhiata anche alle melanzane ancora un altro poco luca io da calabrese ci metto l'origono già direttamente nei pomodorini in un altro tegame mettiamo sempre dell'olio d'oliva e lo spicchio d'alio e ci aggiungiamo il pesce spada e sfumiamo con un po di vino bianco luca come ti dicevo nei miei piatti amo mettere i sapori della mia terra adesso dopo aver sfumato un po col vino bianco ci mettiamo i pomodorini ancora origano quando si sarà formata una cremina io ci aggiungo le melanzane giriamo e dopo poco ci aggiungiamo le olive e non mi resta che fare la pasta oggi ho scelto i paccheri intanto che si cuoce la pasta completiamo con un po di prezzemolo e per chi lo desidera può mettere un po di peperoncino calabrese piccante ciao luca